Felicità e commozione ma anche la consapevolezza che la battaglia non è finita. All'indomani del pronunciamento della Corte d'Appello di Palermo che ha revocato la sentenza di fallimento della Calcestruzzi Belice sancita dal Tribunale di Sciacca, Cigelle e Fillè annunciano la richiesta di convocazione del tavolo al Ministero per un ulteriore confronto con l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia che abbia come oggetto il riavvio del lavoro e che affronti il tema di come arrivare alla fine delle gestioni commissariali dell'azienda. Non è facile, evidenziano Massimo Raso e Vito Baglio, dopo mesi di inattività e di scelte che il sindacato ritiene quanto meno discutibili. Insomma è stato compiuto il primo fondamentale passo ma adesso occorre superare le altre difficoltà ed è anche il sindaco di Montevago, Margherita, alla Roccaruola, al nostro telegiornale a manifestare prudenza alla luce di come sono andate le cose e al tempo stesso ad auspicare che gli ulteriori passaggi in direzione della ripresa dell'attività vengano consumati in fretta. Bisogna ricordare cosa è stato questo periodo sia per i lavoratori che sono stati licenziati che per il destino ultimo di questa risorsa che sul territorio è una risorsa senza precedenti. Se pensiamo che chi più di me ne capisce dice che ha una capacità estrattiva per almeno 70 anni quindi immaginare in un momento di crisi un posto come questo che può dare lavoro essere considerato fallito è ovvio che sei con la morte nel cuore. Quindi ieri il messaggio mi aveva commosso moltissimo innanzitutto per il risultato raggiunto e anche non nascondo la preoccupazione perché ogni volta che poi si mette mano ad un capitolo chiuso e ci sono diversi passaggi da consumare, diversi interlocutori da sentire e quindi ora mi auguro, e la preoccupazione di fatto è solo questa, io mi auguro che il tutto rientri in tempi celiri. La prima cosa che vorrei rientrasse è riprendere in mano i lavoratori e dare a loro la possibilità di tornare al lavoro quindi annullare quelle lettere di licenziamento che hanno ricevuto il 10 gennaio. Bisogna capire e credo che bisogna fare anche un tavolo dove ci siano i sindacati dove ci sia la politica, l'amministrazione del comune in questo momento e Montevago, il territorio per capire l'agenzia come vorrà muoversi, quali sono i passi successivi e semmai loro saranno più esperti di noi in circostanze del genere e come va recuperato il tutto. Quindi i passaggi ora bisogna seguirli passo dopo passo con trasparenza, con chiarezza, con senso di responsabilità così come auspicava Don Ciotti in un messaggio che mi ha mandato ieri.